Buongiorno, siamo qui con un assiduo frequentatore della fiera, volevamo sapere come mai si trova qui e diciamo cosa rappresenta, cosa espone. Io vengo a Francavilla di Sicilia perché sono amatore delle fiere e degli animali, sono un venditore ambulante di giocattoli, ho portato anche una grafetta qua per vendere e perché ci sono della gente buonissima, amo gli animali, i cavalli, tutti gli animali. Grazie per il suo contributo, ci vediamo al prossimo evento, arrivederci.